e con questo ragazzi siamo sicuramente approdati su tac pacco il nostro reparto tutto tattico vi sto per presentare i camo scream kit di savotta questo è un semplice semplicissimo oggetto professionale però che permette di aggiungere rapidamente il mimetismo al nostro equipaggiamento e di adattarlo ad ogni situazione in ogni kit ci sono cinque strisce da 145 centimetri chiaramente tutte del colore selezionato e sono disponibili sei tipi di colorazione perché diverso è l'ambiente in cui ci possiamo trovare a doverci mimetizzare io le trovo davvero comode ed efficaci hanno delle asole per cui si passano all'interno dell'asola tra di loro così si bloccano nell'equipaggiamento o guadagnano volume e posso mimetizzarmi ora vabbè lo sto facendo il cretino ma posso mimetizzare davvero ogni tipo di equipaggiamento d'altronde ormai fanno parte della mia bug out bag la borsa per l'emergenza è quella per lasciare casa che è uno zaino skyweight di 511 fantastico di suo non è mimetico ma se mi dovesse servire applico velocemente queste strisce e diventa innanzitutto fighissimo ma soprattutto mimetico si passa tra i sistemi molli nel casco sul fucile dove vi serve ragazzi è facile da applicare e da rimuovere si può riutilizzare vi dicevo è uno strumento professionale tutte le colorazioni hanno buone prestazioni near near significa near infrared quindi sono molto poco visibili anche agli infrarossi è ovviamente uno strumento che nasce per operatori professionisti nelle forze armate nelle forze dell'ordine ma anche perché no per osservatori naturalistici che vogliono rimanere mimetizzati nell'ambiente per i prepper che vogliono magari imboscarsi senza essere visti se ti piacciono gli argomenti tattici devi assolutamente seguire le live di tac pacco sono live che teniamo nel salottino privato di back pacco e su vimeo o vimo per il momento è programmata una live al mese per accedervi devi semplicemente iscriverti con il tuo nome cognome e indirizzo email sulla live su vimeo quando è programmata e comunque il giorno successivo alla live la trovi disponibile come video in replica anche su youtube per cui se vuoi guardare quelle che per il momento ci sono state beh dai un'occhiata al link qui sotto quindi sì è il momento in cui devi iscriverti al canale e schiacciare la campanella così non ti perderai neanche uno dei prossimi video tattici